ciao ragazzi mi chiamo vincenzo mercurio banda musicale marina militare vi parlo del trombone come è facile capire dal termine il trombone è il doppio della tomba sia nella lunghezza che nella grandezza del canneggio e anche nella circonferenza del padiglione o campana a differenza degli altri strumenti adottone il trombone non ha le valvole chiamati pistoni o cilindri ma ha questo sistema di dubbi chiamato culisse che gli permette allo strumento di allungarsi e di accorciarsi grazie alla culisse il trombone è capace di riprodurre uno speciale effetto sonoro chiamato grissato il grissato non è altro che un trascere a un suono dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto ve lo faccio sia vedere che sentire anche il trombone la sua imboccatura nella quale le labbra producono delle vibrazioni e poi amplificate dallo strumento chiamato grissato grissà ciao ragazzi